Sabato 16 e domenica 17 settembre si svolgerà presso il Castello di Torre la 37esima edizione della Giostra dei Castelli, una festa medievale che ricorda le vicende storiche di fine Quattrocento, quando i turchi giunsero in Friuli mettendo a ferro e fuoco Pordenone. L'evento è nato nel lontano 1985 e negli anni è diventato un'importante rievocazione per famiglie, ricca di spettacoli itineranti che catalizzano decine di gruppi storici da tutta Italia. Trampolieri e mangiafuoco, giullari e cantastorie, saltimbanchi, danzatrici, compagnie di ventura con i loro duelli, arcieri e falconieri con i loro maestosi rapaci, ma anche sbandieratori, tamburini, musica medievale e tanta magia per gli spettatori di tutte le età. E nella locanda si potrà gustare la famosa cialda, una piadina speciale diventata fiore all'occhiello di questa giostra, poiché in tutto il Triveneto viene realizzato con questo impasto solo a torre e in altri due luoghi. Anche quest'anno una parte importante è quella dedicata agli spettacoli, più di 25 compagnie tra artisti e rievocatori che arrivano da tutta Italia, più di 100 le repliche proposte nelle due giornate con spettacoli che vanno degli spettacoli di fuoco ai giullari, un focus particolare sulle attività per i bambini con degli spettacoli dedicati solo a loro e poi tutta quella attività chiamata dell'edutainment, dell'imparare divertendosi e giocando, quindi la possibilità di scoprire, toccare e comprendere quali erano ad esempio l'uso delle armi, le tecniche di fabbricazione dei materiali nel medioevo, quindi un'esperienza da vivere a 360 gradi che accompagnerà il pubblico e i visitatori in queste due giornate alla 37esima giostra dei Castelli. Ci sono delle novità, in modo particolare il primo palio di arceria, il palio giostra dei Castelli, organizzato dal gruppo Arceri di Chioggia, praticamente ci sono i quattro quartieri storici di Pordenone che si sfideranno in una gara di arceria, la domenica, quindi domenica mattina le fasi eliminatorie e poi la domenica pomeriggio la gran finale con le premiazioni. I quattro quartieri saranno ovviamente Torre, Villanova, Valle Noncello e Rorai Grande. Per quanto riguarda i figuranti, quest'anno in modo particolare la sfilata della domenica pomeriggio sarà molto molto ricca, 350 persone in costume che sfileranno per le vie di Torre, partendo dal castello alle ore 15, arriveremo con tutto il corteo in piazza Don Lozzer, lì ci sarà un piccolo spettacolo e una presentazione di tutti i gruppi e poi da lì si riparte fino all'area festeggiamenti giù al campo sotto il castello. La rievocazione storica nasce e si svolge a Torre, però è chiaro che questo è un evento per tutta la città, aperto a tutta la città ed è un punto di riferimento ormai per i cittadini pordenonesi. Peraltro la rievocazione, grazie all'impegno del castello assieme a quello del comune, si inserisce una serie di iniziative per valorizzare tutto il comprensorio del parco del castello di Torre e il museo archeologico che lì è insediato. Ecco, io dico che è l'occasione per venire a giocare, divertirsi, mangiare bene e anche magari fare un salto al nostro museo archeologico. Ne vale la pena, l'ingresso è gratuito per i giorni della rievocazione. Grazie a tutti.